7.000 cilieci e forse 70.000 lo sono e non sanno di esserlo. Regione Lombardia ha messo in campo un sistema sanitario di grande valore per la diagnosi e la cura di chi ha questa patologia, che è una malattia che accompagna per tutto il resto della propria vita, ma soprattutto oggi facilita la vita ai pazienti che hanno la ciliachia, perché fino a un paio di anni fa in Regione Lombardia, come in tutto il resto delle regioni d'Italia, veniva dato un buono che poteva essere speso per prodotti senza glutine solo nella propria farmacia. Noi abbiamo fatto un passo in avanti per migliorare la qualità della vita dei pazienti, dematerializzando il buono. Quindi oggi e facendo accordi anche con la grande distribuzione. Oggi grazie alla app Saluti le Ciliachia è possibile spendere il proprio quantitativo di risorse che il sistema sanitario mette a disposizione presso tutte le farmacie della Lombardia, presso moltissimi centri, la grande distribuzione, quindi centri commerciali e supermercati e tra un po' addirittura attraverso le piattaforme online. Grazie a questa grande capacità il sistema informatico è stato acquistato da altre regioni e quindi oggi è possibile per i pazienti lombardi spendere il proprio buono anche in Veneto, in Toscana e quindi domani anche in altre regioni. Quindi Regione Lombardia ancora una volta vicino ai bisogni dei propri concittadini con l'innovazione tecnologica.